...perfettente che veniva da Stropoli, a Turmo, da Panarea, da Salina per mantenere i gruppi di guardia che io scrivevo su un pezzo di carta, sulla striscia di carta appesa al muro. Questa scuola ha partecipato all'occupazione di Cilicuri quando il ministero di... che noi abbiamo avuto nella vita, ricordatevelo, purtroppo sono cose che non si devono dire, ma abbiamo un grande nemico che è lo Stato, è chiaro che così come ci dice voi un abito non lo avrete mai, in tante altre cose abbiamo avuto e abbiamo questo nemico. E allora, in quell'occasione, la dimostrazione fu che a un certo punto ci mandarono 15 dei maggiori mafiosi della Sicilia a cominciare da Pallanamenti, li mandarono a Cilicuri. Noi che venivamo fuori da una vita di essere figli, tutta la storia cominciò perché noi eravamo figli di Quattina.